Ciao a tutti, eccoci qua come sempre per parlare di cinema, sono Giulio, volevo fare la recensione di un film che è uscito da una decina di giorni nei sali italiani che sono riuscito a vedere questo weekend, che è Laggiù Qualcuno Mi Ama, documentario diretto da Mario Martone che è ovviamente dedicato, ne avevo parlato anche in precedente, dedicato a Massimo Troisi perché proprio il 19 febbraio Massimo Troisi avrebbe compiuto 70 anni e quindi parlandone in merito ad altri video, soprattutto quello di un altro documentario che era Buon compleanno a Massimo e anche nella puntata di Riders dove io e Pierpaolo ho ricordato il film d'esordio di Massimo Troisi che ricomincio da tre, in questo periodo proprio si è voluto ricordare la figura di Troisi e avevo parlato anche, accennato a questo documentario che finalmente sono riuscito a vedere e devo dire complimenti a Mario Martone perché ha fatto un gran bel documentario sotto tanti punti di vista, un documentario veramente completo, un documentario densissimo perché sono poco più di due ore che volano, dove c'è tanto da imparare, da conoscere perché c'è tanto materiale inedito a partire anche dalla stessa realizzazione perché il documentario che ha fatto, il bellissimo documentario che ha fatto Mario Martone è realizzato o sceneggiato con Anna Pavignano che è una figura centrale nella storia privata e professionale di Troisi perché per un lungo tempo è stata anche compagna non solo di lavoro e di vita, hanno scritto insieme diverse sceneggiature e lei ha collaborato alla scrittura, all'ideazione di questo documentario, un documentario completo che si concentra soprattutto sulla parte cinematografica di Troisi ma anche sulla vita privata e secondo me è un documentario bellissimo perché riesce a far capire il senso artistico e personale della figura di Troisi come attore, come regista, come personaggio dello spettacolo e la cosa che viene fuori è proprio questa sua estrema timidezza, estrema anche in un certo senso paura di confrontarsi con gli altri e una fattispecie anche con il gentil sesso e Mario Martone lo racconta benissimo, ha un focus ben preciso su questo argomento e secondo me è molto funzionale non solo per chi vuole rivedere Troisi, ricordare i tanti film che ha fatto, il personaggio che è, ma soprattutto per chi non conosce Troisi o per chi ha una certa diffidenza nei confronti di Troisi a partire anche dal suo modo di fare ironia, anche la sua parlata decisamente particolare che magari a qualcuno, diciamo così, non lo entusiasma, non lo incuriosisce, ecco Mario Martone spiega benissimo tutto questo, tutto questo atteggiamento, tutto questo di essere fondamentalmente umili e timidi e anche un po' come più volte viene ribadito anche un po' pigri perché una delle caratteristiche o dei lati così negativi tra virgolette ovviamente è la pigrizia, è un film veramente denso raccontato benissimo dallo stesso anche Mario Martone che ovviamente essendo un regista napoletano che ha vissuto in maniera molto personale quel periodo, si susseguono aneddoti, curiosità ma c'è spazio anche per altri artisti, non solo di Napoli, viene chiamato in caso ovviamente Paolo Sorrentino ad esempio intervengono anche Ficarra e Piccone che raccontano anche il loro modo di vedere, di aver visto Truisi, aver apprezzato la comicità di Truisi quindi devo dire che è un film veramente completo, veramente ricco che secondo me è il giusto regalo, omaggio a Truisi per i suoi 70 anni, che sarebbero stati i suoi 70 anni e per la carriera che ha fatto infatti Mario Martone racconta tutto della sua filmografia partendo ovviamente da ricomincio da tre fino ad arrivare all'ultimo film che è ovviamente il postino durante il quale morì nel 94 e racconta tutta la sua storia di artista, di comico mentre per quanto riguarda quello precedente ovvero il punto di partenza, ovvero la televisione viene solo accennato e si fa riferimento anche al cambiamento diciamo culturale che Napoli stava vivendo tra gli anni 70 e gli anni 80 della creazione di questi piccoli teatri, luoghi dove potersi esprimere, di poter dare sfogo alla propria creatività che era un altro aspetto che avevamo visto anche nell'altro documentario, buon compleanno massimo, insomma è stato proprio una bella visione, interessante ripeto molto utile sia per chi conosce Truisi sia perché ci si vuole avvicinare a Truisi e ovviamente io consiglio caloriosamente tutta la sua filmografia che è abbastanza diversa, una prima direi più personale perché è dove lui fa anche il regista mentre ad esempio la parte dove lavora con Ettore Scola lui invece è tutto il lavoro di attore decisamente diverso ma altrettanto interessante insomma è da da vedere questo laggiù qualcuno mi ama e devo dire che sono tanti visto anche che il documentario sta andando decisamente bene questo è quello che volevo dire in merito a questo film che è in programmazione nelle sale italiane da una decina di giorni da da vedere ciao a tutti e alla prossima